Dopo la decisione di Cremona Solidale che vieta l'ingresso all'interno dell'RSA a tutti i familiari degli ospiti, anche l'associazione Angeli Custodi di Cremona ha deciso di intervenire dopo le centinaia di richieste d'aiuto. Abbiamo già avuto nel 2020 con la prima ondata tantissimi anziani che si sono lasciati andare convinti che i familiari li avessero abbandonati, adesso se dovessimo collaborare RSA, associazione e quant'altro potremmo trovare una soluzione affinché finalmente i familiari riescano a vedere i propri congiunti. C'è una legge in realtà che potrebbe tutelare i parenti e soprattutto anche le persone all'interno che si sentono abbandonate? Sì, già la legge del 30 dicembre stabiliva con delle precise indicazioni che i familiari potevano andare a trovare i loro congiunti all'interno delle strutture se avessero avuto o dovessero avere tre vaccini oppure due vaccini e un tampone. Ecco, noi adesso abbiamo anche la possibilità insieme a Giuseppe di sentire una di queste persone, un familiare che purtroppo si trova in queste condizioni e si sentono purtroppo ahimè abbandonati. Mio marito ha avuto un ictus, fra l'altro come testa c'è, solo che non può esprimersi. Sono tre anni che anche la dottoressa mi dice signora guardi che suo marito mangia, sta bene, insomma me lo mettono su un piatto che anche senza la mia presenza è tutto ad hoc. Ecco, il 4 gennaio è arrivata questa comunicazione che per motivi precauzionali erano sospese le visite, anche se io andavo un giorno sì, un giorno no, tre quarti d'ora a fare le visite. Ecco, la videochiamata per mio marito è una cosa che, poverino, non potendo parlare ti guarda e poi insomma dalle espressioni ti dici ma scusa fonesi. Io andrei là e forcerei la porta per entrare. Inoltre, come ha dichiarato il presidente dell'associazione, Giuseppe Bruno, questa scelta non è per nulla sensata, dato che il personale che lavora all'interno dell'RSA è comunque un pericolo per gli ospiti, visto che al di fuori della struttura hanno una propria vita personale a contatto con persone che potrebbero anche essere positive al covid-19 e di conseguenza la salute degli ospiti più fragili sarebbe comunque a rischio.